Che ti dicevo? Eh? Ci credevi? Ti ho dato se ti dicevo? Ma che tu sei arrivato? Noi vabbiamo ancora. Chissà se ci arriviamo. Eh, chissà se ci arriviamo. Chissà. Chissà, che ci ha girato. Una domanda alla mia. Come facciamo le proprie qualcuno che va via che facciamo questo? Come facciamo le proprie Que por io qualcuno che lo No, non, non Sì, 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 sì. Grazie.